in questa nuova veste di cazzeggio catabiotrico sono due nuovi ospiti sono due ospiti immaginari beh insomma mica tanto immaginari Gizel e Theia sono due alieni attualmente in sosta sulla colonia di Gonor di Marte per studiare lo sviluppo del punto protocollo sulla terra provengono dalla base di prossimità di Capitani B e sono molto cittoni, suscevoli molti non pensano che la connessione con il campo antanico a decadimento mecoionico sia veramente esistente con una trasmissione dalla pianeta Gonor dalla colonia di Gonor ci vuoi dire qualcosa di tecnologico per avvalorare questa tesi ai nostri ascoltatori? Gizel a me tracciano i miei tamponi, muore, cilie, nebole, pannecoche sì, va bene, fantastico ma Ezezel ci potresti dire qualcosa di tecnologico riguardante la policeramica supermassiva? sì, la policeramica supermassiva è un multimateriale artificiale sintetizzato nella forma di una molecola wow è veramente proprio tanta lana Ezezel ci potresti spiegare qualche cosa riguardo al significato di questi termini? sì, ok, è veramente parziale è vero che voi parlate così perché avete il traduttore universale e voi siete nativamente telepatici? qualcosa mi dice che questa trasmissione sta volgendo al termine un saluto a Ezezel, nostro amico alieno sulla colonia di Marte e un saluto a tutti i nostri ascoltatori i nostri ascoltatori i nostri ascoltatori e ho i nostri ascoltatori il autore